Incidente immortale nelle campagne di San Vito Chietino, a perdere la vita è stato Americo Amoroso, 83 anni, ex imprenditore del posto. L'anziano stava bruciando sterpaglie in un vallone agricolo di proprietà in località Asciutico quando si è alzato un forte vento. Le fiamme non gli hanno dato scampo. Allertati i soccorsi dal nipote, l'uomo è morto carbonizzato. La ricostruzione dei fatti è affidata ai carabinieri della compagnia di Ortona assieme ai vigili del fuoco di Lanciano intervenuti sul posto. Tra le ipotesi della ricostruzione e della dinamica la vittima potrebbe essere inciampata mentre correva per cercare riparo dal rogo.